Troppo cemento sul Garda, troppe costruzioni, troppe gru. È un'immagine non certo confortante, quella fornita dai volontari di Lega Ambiente nel report fotografico intitolato Paesaggio Violato, una sorta di denuncia dell'abuso edilizio nel paesaggio del lago più grande d'Italia. Maglia Nera Lazzise, il comune sul Garda, che risulta essere un enorme cantiere, ma tutta la zona del lago soffre degrado ed eccessiva cementificazione. A ribadirlo in questi giorni la Goletta dei Laghi, la campagna nazionale di Lega Ambiente, per il monitoraggio dello stato di salute dei laghi italiani. Noi chiediamo alle amministrazioni di avere un po' più di rispetto per questo territorio che ormai non ha più un metro quadrato libero per permettere alle persone di beneficiare di quella che è la ricca biodiversità del lago. Noi siamo stati da Malcesine alla Lazzise, siamo stati anche qui vicino al lago del santuario del Frassino, anche quello dove è impossibile accedere per i cittadini perché è completamente impedito l'accesso al lago a causa delle proprietà private. Quindi queste sono tutte delle criticità che noi vogliamo evidenziare con la nostra campagna. Com'è la situazione nelle altre zone dove siete stati? La situazione è abbastanza preoccupante, soprattutto per quanto riguarda la depurazione e gli scarichi abusivi nelle acque dei laghi. Quindi noi tendenzialmente cerchiamo di evidenziare quali sono i punti critici. Non ci sostituiamo assolutamente al lavoro di quelli che sono gli enti preposti a monitorare la balneabilità del lago. Quello che noi facciamo è scattare un po' una fotografia in un periodo dell'anno, che è questo del mese di luglio, per capire qual è lo Stato e evidenziare quali sono le criticità e denunciarle anche insieme agli amministratori, cercare la soluzione a queste criticità legate soprattutto all'inquinamento degli scarichi abusivi, di una mancata, una scarsa assente depurazione. Tanti giovani volontari che in questi giorni hanno collaborato per raccogliere dati riguardo alla situazione del territorio del Garda, a motivarli lo spirito di servizio come Francesca. Cosa vuol dire per una ragazza giovane come te essere volontario di Lega Ambiente? In realtà è il primo campo di volontariato che faccio e ho scelto Lega Ambiente per sensibilizzarmi ancora di più a questa tutela ambientale che per me comunque è già importante. E poi appunto per lanciarmi in questa cosa del volontariato che è diverso venire qui a lavorare ed essere retribuiti piuttosto che lavorare invece per una passione volontariamente e metterci l'anima anche se non c'è una retribuzione, è proprio questo quello che mi interessa.